un insieme di fattori che abbiamo già detto prima poi mi fa piacere che tu abbia già la certezza sulla formazione e io credo invece che trasmetto sempre alla mia squadra un po' il contrario per mantenere tutti quanti nella massima attenzione e ribadisco che al di là di chi parte sono fondamentali anche i giocatori che entrano in questa squadra dobbiamo essere ancora più bravi di quello che siamo stati fino adesso specialmente nelle ultime gare ad entrare e determinare maggiormente quando si viene utilizzati che siano 10, che siano 20, che sia mezz'ora in questa è una cosa dove noi dobbiamo ancora crescere e andare a migliorare nell'approcciare la gara per quanto riguarda l'aspetto tattico potrei cambiare qualcosa in riferimento anche un po' come hai detto te in base anche all'avversario che andiamo ad affrontare perché ad oggi se io ti dovessi dire come verrà a giocare qui la Salernitana farei fatica per quello mi sono molto più concentrato su quello che dobbiamo fare noi compreso quello che stai dicendo te e la capacità di avere durante la gara di rimanere in partita e sfruttare quelle che sono le nostre armi partiamo da questo presupposto, noi siamo padroni di questa partita e del destino di questa gara per quello la dobbiamo approcciare con grande determinazione che non significa solo aggressività, foga che fanno parte del contesto di una squadra ma la capacità di saper leggere le situazioni e capire dove poter andare a colpire con maggiore attenzione la squadra avversaria questa è da preparare in questo modo questa partita, ne sono convinto ma ci potrebbero essere in tutti i ruoli però parliamo sempre dei giocatori che sono stati tra virgolette anche in ballottaggio in queste situazioni, in queste gare detto che Bonifazio è rientrato adesso a differenza magari di altri giocatori che si sono sempre allenati è venuto da un momento quest'anno Bonifazio è stato anche un po' sfortunato da quando è venuto da noi ha alternato momenti in cui era a disposizione e altri no però al di là di questa gara poi ci saranno altre gare importantissime ritengo che siano tutti e quattro messi insieme per noi dei giocatori importanti sia a partite iniziate che in corso per quello mi piace il concetto dei ballottaggi a me non dispiace quando fa crescere e maturare la competitività all'interno della squadra e anche approcciare meglio a quelle che sono poi sia gli allenamenti che le gare ma un pizzico di io sono sinceramente non con un pizzico ma sincero poi a volte posso nascondere le cose per convenienza o perché non voglio dare tra virgolette o alibi o altro ma questa della sincerità mi contraddistingue l'assicuro e a volte è un bene o un male può essere in tante cose però da quando sono arrivato per me vale tanto personalmente ma mi sono tantissimo legato a questo contesto in cui mi trovo veramente bene dove credo che per quello che la gente ci sta mostrando per quello che noi stiamo mostrando quando andiamo in giro meritiamo questo traguardo per quello lotteremo fino alla fine a partire della partita di domani per poterlo raggiungere e sarebbe tra virgolette un po' il sogno di questo momento mio personale l'aggiungimento della salvezza che poi sono uno di quelli che tornando alla sincerità mi piace vedere la gioia negli altri più che la mia ed è quella che poi mi fa contento però mi piace vedere le altre persone felici e mi auguro che questa gioia venga trasferita a questo popolo che lo merita per quello che mostra anche a me personalmente quando andavo in giro tutti i giorni sinceramente non ho fatto dei calcoli però personalmente credo che lo snodo per capire realmente quello che sarà un po' la quota salvezza questa giornata lo può determinare il campionato alla fine di tutte le partite è davvero un'idea se oggi dovessi pensare a dirle una quota dire 37, 36 ma dipende tanto però credo che gli ultimi risultati abbiano alzato un pochino che sia di un punto o due la quota salvezza questo sì rispetto a quello che avremmo potuto pensare tre, quattro partite fa le partite, le vittorie che ci sono state tra virgolette un po' inaspettate che ci sono state in generale possono portare la quota salvezza un pochino più alta no no devo dire che questo è un gran vantaggio ritengo che sia una cosa assolutamente positiva al di là di quelli che farei giocare consecutivamente ma avere un po' tutta la rosa a disposizione del poter scegliere devo dire che sono pure troppi adesso spesso devo fare nelle esercitazioni e nelle elementi devo alternarmi perché ho 24-25 giocatori di movimento escluso i portieri cosa che non mi era mai successa in passato dovevo sempre un po' andare a raccattare a destra e a sinistra in questo senso alza sia la qualità dell'allenamento ve l'assicuro la competitività e l'attenzione quella che noi chiedevamo perché ti senti messo quotidianamente e costantemente in discussione e credo che sia importante avere questa grande continuità sempre per tutta la stagione però godiamoci questo tra virgolette momento in cui posso avere tanti giocatori a disposizione oggi tornando un po' non me l'avete ancora fatta questa domanda in relazioni disponibili e indisponibili gli unici due tranne lungo dei genti quelli che ho Iono e lo stesso Calai che non saranno a disposizione sono sia Rui che Luswardi che ha riavuto un po' un riacutizzarsi del problemino che l'ha dato un'ulto fermo per questa settimana per questa partita sicuramente non sarà a disposizione mentre gli altri oggi ho fatto dopo l'ultimo allenamento domani faremo una piccola rifinitura sono tutti convocati con una trasmissione tutti convocati ma devo dire che come hai detto tu non avendo un'idea di un sistema di gioco su cui andiamo a affrontare abbiamo parlato tantissimo dei singoli principalmente delle qualità individuali che hanno un po' in generale ma questa è una squadra che se andiamo a vedere anche tutti i nomi e anche tra virgolette i campionati che hanno alle spalle è una squadra importante che è stata costruita sicuramente per un altro tipo di campionato questo sicuro al 100% per quello ha giocatori di spessore non so se mai dovesse rientrare Costas Manolas che ha allenato giocatori di esperienza è lo stesso Fazio che è un giocatore che io conosco bene di temperamento di cattiveria che non è uno che va in giro a fare brutte figure che conosco questi giocatori anche caratterialmente mancherà che Andreva che per loro è una fonte una risorsa importante specialmente sui tiri da fuori carci piazzati e poi mi sembra che ha 36 anni ma ne dimostra molti meno dal mio punto di vista venendolo in campo perché è ancora un giocatore integro che non ci sarà davanti a noi in due mesi cioè sono giocatori che secondo me molto interessanti che non hanno di A giocatore forte questa è una squadra che è una rosa veramente competitiva forte poi ci sono le annate dove ti gira tutto in una certa maniera e questo va male ma è stata una squadra costruita con delle basi e con degli investimenti veramente importanti per quello non va assolutamente sottovalutata è il contrario chiaro me l'hanno detto oggi di fatti abbiamo anticipato un pochino la partenza per stare un pochino più ci caricheranno dopo anche il discorso lo faranno loro la squadra per quello non serve a livello motivazionale credo che certe partite la motivazione è insita dentro la gara i nostri riposi potranno darci solo un sostegno in più come hai detto tu prima hanno sempre fatto in casa in trasferta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti